Benvenuti in questo spazio speciale che condividiamo con la dottoressa Michela De Petris a Milano nel suo studio in arte medica. Buonasera, bentrovata. Buonasera a tutti voi. E grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. In questo spazio noi parleremo di salute sotto tanti punti di vista, ma in particolare è in correlazione con l'alimentazione. Quindi parleremo di quelli che sono i cibi che ci possono aiutare a stare meglio e anche a prevenire, perché lo possiamo considerare una vera e propria cura, quella dell'alimentazione in un certo senso. Medico chirurgo, dietologa esperta in alimentazione vegetariana, vegana, macrobiotica e crudista e nella terapia nutrizionale del paziente oncologico, è membro del comitato scientifico dell'Associazione Vegani Italiani. In particolare in questo appuntamento parleremo dei cibi e del cervello. Sì, quanto riusciamo a fare di buono con una buona alimentazione per la prevenzione, ma anche per la terapia, delle malattie neurodegenerative. Questo perché demenza, senile, ma anche giovanile, Alzheimer, Parkinson, perdita della memoria, facoltamentali, possono essere prevenute, migliorate attraverso la scelta di cibi giusti. Sia con una scorretta alimentazione si può peggiorare la situazione, ma anche e soprattutto scegliendo i cibi giusti si può fare molto per le proprie facoltà mentali. Per certe patologie purtroppo anche i numeri dicono che ci sono casi in aumento e anche abbassamento dell'età di insorgenza. Sì, è sempre più frequente trovare disturbi del sistema nervoso centrale e anche periferico, addirittura anche nei giovani. Infatti si è sempre parlato di demenza senile, in realtà adesso si parla di demenza in generale, questo perché è molto più frequente trovarla anche nei pazienti giovani. Per cui demenza senile sì, ma anche giovanile, ahimè, come anche Alzheimer, Parkinson e tante altre patologie della sfera encefalica sono sempre più frequenti nella popolazione giovane, ma abbiamo un'arma invincibile. Scegliendo i cibi giusti e alimentandosi in maniera corretta si può fare davvero tanto. Possiamo dire perché è così importante l'alimentazione prima di entrare nello specifico? L'alimentazione è proprio la prima medicina, non ce n'è? Noi ci alimentiamo almeno tre volte al giorno e attraverso i cibi giusti possiamo fare molto. Possiamo o intossicarci e peggiorare il nostro stato di salute, oppure introdurre molecole funzionali specifiche per migliorare patologie esistenti o prevenirle. Quindi per il nostro cervello quali sono i cibi principali, più importanti, migliori e naturalmente spieghiamo anche il perché. Ce ne sono tanti, tra poco lo vedremo bene, sono fondamentalmente, direi esclusivamente tutti a base vegetale, perché ciò che fa la differenza sono proprio le molecole antiossidanti, molecole protettive, sostanze bioattive che si trovano prevalentemente se non esclusivamente nel cibo di origine vegetale. Fresco, genuino, poco elaborato, possibilmente crudo. Ci sono tante molecole specifiche con attività particolari. Cominciamo dunque a vedere quali sono i cibi migliori per il nostro cervello. Sì, parto in genere con un paio di frasi. A me le frasi piacciono molto, rendono bene l'idea. La prima è una frase importante del VCRF, che è un acronimo, significa World Cancer Research Fund. È una grossa società scientifica che si occupa di studiare la relazione tra alimentazione, patologie, prevenzioni, terapia, e che ci dice che la dieta è la variabile più potente nell'influenzare nel bene e nel male lo stato di salute. È una frase importante, questo perché la dieta dipende solo ed esclusivamente da noi. Più dei geni, quindi, più dall'ereditarietà. La dieta addirittura riesce a influenzare l'espressione dei geni. C'è una branca della medicina, si chiama epigenetica, che studia proprio la possibilità dei cibi di modificare l'espressione dei geni, per cui di accendere o di spegnere determinati geni. Frase molto carina di Ippocrate, risale veramente a tanti anni fa, ci ricorda fa il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. È fondamentale. Proprio il primo rimedio, sia nel bene sia nel male, è proprio l'alimento. Il cibo che mangiamo, infatti, può influire drasticamente sulla probabilità di declino mentale. Faccio notare che a fianco di ogni affermazione c'è sempre il riferimento bibliografico. Questo è importante perché sono notizie che trasmetto e riporto io, ma soprattutto a Monte ci sono fiorfiori di studi che vanno a documentare ciò di cui stiamo parlando. Una dieta sbilanciata, ipercalorica e iperproteica aumenta la produzione di radicali liberi, che sono delle molecole necessarie per il buon funzionamento dell'organismo, ma devono essere presenti nel giusto quantitativo. Se sono prodotti in quantità esuberante, determinano disfunzione cognitiva, demenza e Alzheimer. Il consumo di antiossidanti per contro protegge il cervello dai danni indotti dai radicali liberi, per cui possiamo sia limitare l'iperproduzione dei radicali liberi, ma soprattutto andare a tamponarne l'effetto introducendo i cibi giusti. Ora volevo presentare un po' di sana, come la definisco io, letteratura scientifica e il consiglio che do ai telespettatori è quello di procurarsi un foglio di carta grosso, recuperare una penna, per andare a farsi una tabellina in cui andranno a indicare i cibi buoni e cibi cattivi, in maniera tale che per ogni affermazione scientifica che adesso proietteremo, ognuno autonomamente a casa si può costruire la sua tabellina, cibi sì e cibi no, in maniera tale poi da appiccicarla sul frigorifero, tenerla a casa, averla sempre sott'occhio e poter andare a consultarla volta per volta in maniera tale da fare le scelte alimentari migliori. Partiamo subito. I cibi di origine animale sono privi di scudi antiossidanti e promuovono la formazione di radicali liberi. I cibi vegetali invece sono ricchi di antiossidanti che inattiviano i radicali liberi e riducono l'invecchiamento cellulare. Ecco che nella tabellina già abbiamo da segnare cibi sì e cibi no, cibi sì in generale, cibi vegetali, cibi no perché privi di scudi antiossidanti, i cibi di origine animale. Questo come due grandi categorie. Ora entriamo più nel dettaglio. Elevati livelli di vitamina E sono in relazione con una minor perdita di memoria. La vitamina E, che è un potentissimo antiossidante, si trova soprattutto negli oli vegetali, nella frutta secca, nei semi oleaginosi e nel germe di grano. Una buona memoria è correlata a livelli più alti di vitamina C e di selenio, che riducono l'attività dei radicali liberi. Soggetti che consumano più vitamina C e beta carotene ottengono ponteggi più alti nei test mentali. La vitamina C si trova in tantissimi cibi di origine vegetali, soprattutto crudi, come il succo di agrumi, in particolar modo i limoni, nel prezzemolo, nei peperoni, nelle dragole, nei kiwi, nei superfood, come la polvere di baobab, il camu camu, la cerola. Il beta carotene, invece, è un precursore della vitamina A. Tutte queste vitamine sono meglio preservate e più presenti nei cibi vegetali crudi. Questo perché la cottura, la temperatura e l'esposizione alla luce solare riduce drasticamente il quantitativo di queste vitamine. Ancora, la demenza vascolare è chiaramente influenzata all'alimentazione. Tre porzioni di frutta e verdura in più al giorno riducono il rischio di ictus del 22%, ictus che è una patologia proprio del sistema nervoso centrale. Il consumo di grassi saturi, che si trovano prevalentemente nei cibi di origine animale, è correlato a un maggior rischio di demenza per problemi vascolari. Una dieta ad elevato apporto di colesterolo, che invece si trova esclusivamente nei cibi di origine animale, favorisce la produzione di beta amiloide, che è una sostanza proprio tipica della patologia di Alzheimer. Per cui, tabellina, cibi sì, cibi no, mi raccomando, cibi sì, frutta e verdura, cibi no, grassi saturi di origine animale e colesterolo. Una maggiore assunzione di grassi alimentari e di colesterolo aumenta il rischio di demenza e di Alzheimer. Una dieta ricca in antiossidanti ritarda l'età di insorgenza della demenza. L'assunzione di flavonoidi è correlata a un ridotto rischio di sviluppare demenza e ancora diete ricche di antiossidanti, soprattutto vitamina C e vitamina E, giocano un ruolo protettivo nei confronti della degenerazione cognitiva. Anche gli acidi grassi omega 3 sono molto protettivi. Prevengono lo sviluppo della malattia di Alzheimer e sono utili nel suo trattamento. Per fortuna gli acidi grassi omega 3 non si trovano solo ed esclusivamente nel pesce, ma ci sono tanti altri cibi di origine vegetale al 100%, molto più ricchi di omega 3 rispetto al pesce. Le popolazioni che utilizzano grosse quantità di grassi animali e pochi cereali presentano tassi più elevati di Alzheimer. Attenzione perché i soggetti che mangiano carne presentano una probabilità più che doppia di sviluppare demenza. Coloro che hanno consumato carne per molti anni hanno una probabilità più che tripla di sviluppare demenza. Diete vegetariane e vegane sono in grado di proteggere l'integrità delle funzioni cognitive e qua iniziamo con le buone notizie. Vegetariani e vegani entrambi decidono di non consumare cibi che derivino dall'uccisione degli animali, per cui né i vegetariani né i vegani consumano carne, salumi e pesce. I vegetariani invece continuano a utilizzare i derivati di origine animale, che vuol dire latte, uova, burro, panna, formaggi e anche miele. I vegani invece hanno un'alimentazione al 100% vegetale. Molto interessante, le sostanze bioattive di verdura e frutta sono determinanti per preservare la memoria e le funzioni cognitive nella vecchiaia. Vedete anche qui c'è il riferimento bibliografico perché effettivamente vengono fatti studi di grossa rilevanza. Il progressivo invecchiamento della popolazione è correlato con un aumento della perdita delle facoltà cognitive e una peggior qualità di vita. Le malattie neurodegenerative sono fortemente legate ai processi infiammatori e allo stress ossidativo. Sia i processi infiammatori sia lo stress ossidativo si possono prevenire e combattere scegliendo i cibi giusti. Da cosa sono provocati infatti? Allora, l'infiammazione, beh, da tanti fattori. L'alimentazione fa parte dei vari fattori perché comunque esiste anche lo stress, l'inquinamento ambientale, il ridotto riposo notturno, per cui il fumo di sigaretta non è solo tutto riconducibile alla dieta, però per fortuna sulla dieta ognuno può attivamente lavorarci. La dieta infatti è fondamentale per mantenere in buona salute tutto l'organismo ma anche e soprattutto il cervello. Le sostanze più potenti sono contenute proprio in frutta e verdura e sono rappresentate, come dicevamo prima, da flavonoidi e carotenoidi. Elevati i consumi di queste molecole sono in grado di migliorare i punteggi nei test cognitivi, prevenire e ritardare il deterioramento cognitivo legato all'età, ridurre il rischio di malattie neurodegenerative, per cui effettivamente si può fare tanto scegliendo i cibi giusti. Il WCRF afferma che qualunque dieta, anche se onnivora, deve basarsi principalmente sui cibi vegetali. In termine di salute pubblica, i vantaggi di una dieta vegetariana superano quelli riferibili a una dieta onnivora. La dieta vegetariana o vegana dovrebbe essere sempre incoraggiata nella popolazione generale, invece ahimè si trovano molto spesso colleghi, piuttosto che non altri operatori sanitari, che quando sentono parlare di dieta vegetariana vegana i pazienti arricciano un po' il naso e non sono particolarmente d'accordo. Invece ce lo dice il WCRF, una dieta a base vegetale è quella che dovrebbe essere sempre spinta e incoraggiata. Ora entriamo più nel vivo della situazione perché vorrei parlarvi di quelli che sono stati definiti i magnifici sette. Sono sette alimenti potentemente ricchi di sostanze che aiutano proprio il cervello e quindi la salute mentale e le facoltà cognitive. In ordine il cioccolato, la curcuma, frutti di bosco, semi oleaginosi, frutta secca, il tè verde e lo zenzero. Partiamo da quello che preferisco. Cacao e cioccolato non sono la stessa cosa. Il cioccolato è fatto a partire dal cacao. Il cioccolato è un po' più gustoso, gudurioso. Il cacao è la materia prima. Ovviamente il cioccolato deve essere fondente, rigorosamente senza latte, perché quello che fa bene è proprio il cacao. Infatti più è alta la percentuale di cacao, più i vantaggi nutrizionali aumentano. Perché? Il cacao contiene tanti polifenoli, soprattutto flavonoidi, catechine, procianidine e picatechine, che hanno azione potentemente antiossidante, antiaggregante piastrinica, vuol dire che tiene più fluido il sangue in maniera tale che circoli meglio, e vasodilatatrice. Le sostanze attive sono la feniletilamina, tiramina e serotonina. L'azione è antidepressiva e euforizzante, per cui il cioccolato fa bene, ma anche fa bene a livello fisico, documentato, ma anche a livello di morale. E anche quello non è poco. Quanto cioccolato? Il cioccolato fa bene, ma anche qui bisogna non esagerare. È stato dimostrato da numerosi studi scientifici che il quantitativo ottimale di cioccolato da consumare nell'arco della giornata è di 30 grammi al giorno. Ma, ripeto, deve essere assolutamente fondente e ad alta percentuale di cacao. Questo perché la parte buona, vantaggiosa, è proprio il cacao, quindi deve essere almeno 80-85%. Il cacao frena il decadimento cognitivo. Buono per il palato, ottimo per il cervello. Il cacao infatti aiuta a prevenire le malattie neurodegenerative, riduce l'incidenza di Alzheimer e Parkinson e rallenta la morte neuronale. Ma il cacao e quindi il cioccolato fondente. Non creme spalmabile di dubbia provenienza in cui gli ingredienti non sono ben chiari oppure addirittura peggio sono troppo chiari, perché se in etichetta leggiamo come primo ingrediente lo zucchero, già non va bene. Se a seguire ci sono oli vegetali non specificati o addirittura anche olio di palma, piuttosto che non latte disidratato in polvere, proteine del latte o altre sostanze non ben chiare, non va bene, non è una buona scelta. Non devono essere presenti questi ingredienti. Non devono essere presenti o quantomeno devono essere presenti non in prima battuta. Ciò che ci serve, ciò che c'è di funzionale, è il cacao. Ingredienti di origine animale nel cioccolato o nella crema spalmabile non devono esserci, sicuramente non ci servono. Secondo magnifico 7, la curcuma. La curcuma è una spezia potentissima, anche lei molto ricca di polifenoli, in particolare di curcumina, azione antiossidante e antiinfiammatoria. Effetti, rallenta il decadimento cognitivo, previene e cura l'Alzheimer, migliora le facoltà cerebrali. Indicazioni di utilizzo. Se abbiamo bisogno di un effetto locale e quindi a livello del tubo gastroenterico, la si può assumere da sola. Se invece abbiamo bisogno che venga trascinata dal tubo gastroenterico ed entri in circolo, a questo punto abbiamo bisogno di molecole che la veicolini proprio a livello sistemico. E può essere il pepe nero, come si diceva una volta, che in realtà è sconsigliato perché è una spezia molto irritante per tutto il tubo gastroenterico. Molto meglio invece associare l'assunzione della curcuma con dei grassi, grassi alimentari che fanno da carrier, da veicolo e consentono l'assorbimento della curcuma. Quali grassi? Banalmente olio extravergine di oliva oppure della frutta secca, dei semi oleaginosi. Per cui se abbiamo bisogno di un'azione antiinfiammatoria locale a livello del tubo gastroenterico, in caso di colite, sindrome del colon irritabile, retto colite ulcerosa, morbo di Crohn, va bene assunta da sola o in polvere o fresca, la curcuma. Se abbiamo bisogno invece di un effetto sistemico e che quindi arrivi anche a livello del cervello, superando la barriera ematoencefalica, a quel punto dobbiamo abbinarla a delle sostanze grassi. Quantitativo, consigliato al giorno un cucchiaino ad ogni pasto. Terzo alimento vantaggioso, frutti di bosco. Anche qui ricchissimi di polifenoli, in particolare di antocianine e più sono colorati più il quantitativo aumenta. Azione antiossidante, antinfiammatoria. Riducono la permeabilità dei capillari e diminuiscono l'aggregazione piastrinica. Quali frutti di bosco? Questo è il top di come dovrebbero essere consumati e reperiti. Dovrebbero essere selvatici, di stagione, biologici e di produzione locale. Uno dice, caspita, vuol dire poco. Sicuramente non devono arrivare dall'altra parte del mondo, non devono essere di serra, possibilmente dovrebbero essere biologici. Al limite, se non fossero di stagione, vanno bene anche surgelati. Quantità consigliata giornaliera, una porzione da 200 grammi. Quattro? Quattro. Frutta secca e semi oleaginosi. Frutta secca, che vuol dire mandorle, nocciole, nocciole, anacardi, pinoli, pistacchi, noci. Semi oleaginosi di zucca, di girasole, di canapa, di chia, di papavero. Anche loro contengono molecole funzionali, antiossidanti e antinfiammatorie. Come dicevamo prima, ci vuole moderazione. Sono degli ottimi alimenti, molto ricchi di proteine e di grassi di buona qualità, ma non bisogna esagerare. Porzione giornaliera 25-30 grammi, non di più. Trasgredisco sempre. Ecco, il trucco qual è? È quello che suggerisco sempre ai miei pazienti. La mattina ci si sveglia, si mette sulla bilanzina un contenitore, si pesano bene 30 grammi, 25-30 grammi in tutto tra frutta secca e semi oleaginosi che devono essere consumati nell'arco della giornata. Per cui uno sa che nell'arco di quelle 24 ore può attingere al suo contenitorino, una volta finito, è finito. Così almeno sa di non esagerare e di non sforare oltre. Come devono essere consumati? Questo è importante. Al naturale, quindi non tostati e non salati, in guscio molto meglio, per cui soprattutto per quanto riguarda le noci che si alterano più facilmente, devono essere proprio rotte e aperte al momento, ma soprattutto con la pellicina. Per cui dovendo acquistare soprattutto i pistacchi, le nocciole e le mandorle già senza guscio, è molto meglio prenderle ancora con la loro pellicina e non già bianche pelate. Per vari motivi, anche e soprattutto perché la pellicina è molto ricca di fibre. Le fibre servono e anche ricca di acido folico, che è un antiossidante, per cui più stiamo sui cibi naturali e meno elaborati e tanto di guadagnato è. Ha maggior ragione in una dieta vegana l'acido folico. Ha maggior ragione, sì, 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 anche se in realtà il vegano consuma tanti vegetali, tanto più rispetto all'onnivoro, per cui non è un grosso problema per il vegano vegetariano l'acido folico, però se riusciamo a consumare il tutto il più integro possibile, tanto di guadagnato. 5. Tè verde, ricchissimo anche lui di polifenoli, antiossidanti, antiaggreganti piastrinici, vasodilatatori, riduce l'effetto di, il rischio di infarti e di ictus, riduce la pressione arteriosa, migliora la funzione endoteliale. Anche qui, quanto ne va consumato nell'arco della giornata? Una o due tazze da 200 ml. Attenzione, non è poco, è una buona tazza. Attenzione perché se l'infusione è breve, si estrae solamente la caffeina, mentre noi abbiamo bisogno delle catechine, per cui l'infusione deve essere lunga, almeno 10-15 minuti. Zenzero, 6. Contiene soprattutto gingerolo, anche qui vedete tutte le azioni vantaggiose di questa molecola. Attenzione perché non ci va bene quello che si trova generalmente nelle fiere, candito e quindi ricchissimo di zucchero, non vale. Ma forse una volta era buono. Ora affinando il gusto, sì, uno si accorge che tutto quello zucchero è sgradevole. Non devono essere i biscottini famosi di zenzero, molto carini, ma anche lì sono fatti da zucchero, farina bianca, latte, burro, non va bene. Lo zenzero che ci serve deve essere proprio zenzero, o in polvere o sotto forma di radice. Grattugiato fresco, in succo, a dadini oppure in polvere. Olio e semi di lino sono gli alimenti più ricchi in assoluto di acidi grassi omega-3, che hanno azione ipocolesterolemizzante, ipoinsulinemizzante, sono degli antitumorali, degli antinfiammatori molto piotenti e degli antiaggreganti piastrinici. L'olio di lino contiene più di 10 volte tanto il contenuto di acidi grassi omega-3 presenti nel pesce, per cui chi suggerisce di consumare il pesce perché è molto ricco di omega-3 non è vero. Ci sono tanti cibi di origine vegetale molto più ricchi di omega-3. Olio di lino, semi di lino, semi di canapa, semi di chia, noci, rosmarino, origano, ce ne sono veramente tanti. Gli omega-3 fanno bene al cervello? Assolutamente sì. Questo è un bello studio in cui sono stati analizzati tanti soggetti senza segni di demenza. Il risultato, le persone con più bassi livelli di acidi grassi omega-3 nel sangue hanno un volume cerebrale inferiore, un cervello più vecchio di due anni, minor memoria visiva, ridotte funzioni esecutive, maggior deterioramento cognitivo. Per cui gli omega-3 servono. Dottoressa, noi dobbiamo purtroppo guardare l'orologio e il tempo sta letteralmente volando via. Possiamo quindi arrivare alle conclusioni? Allora, sì, beh, le conclusioni sono proprio facili facili. Più stiamo sui cibi di origine vegetale e tanto di guadagnato è. Ci sono tante ricettine carine e simpatiche che ci aiutano a spostarci su un'alimentazione a base vegetale, come il patè delle alici felici, come il patè delle alici felici e intelligenti, che rispetto al primo ha la curcuma in più aggiunta. Velocemente e proprio a colpo d'occhio si vede subito quali sono le parti del mondo maggiormente interessate da patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e sono soprattutto le popolazioni più sviluppate e quindi l'America del Nord, l'Europa tutta e noi facciamo parte di questo gruppo di paesi sfavoriti e anche l'Australia. Nei paesi dove l'alimentazione è più semplice e più a base vegetale, l'incidenza di Alzheimer è molto meno presente. Servono gli acidi grassi omega 3 del pesce? Servono gli acidi grassi omega 3 del pesce? Ho qualche dubbio. Altro studio interessante dimostra che Norvegia, Islanda e Finlandia sono tra i primi dieci paesi al mondo per il consumo di pesce, ma anche tra i primi per incidenza di Alzheimer, per cui effettivamente attenzione. Queste sono le patologie che aumentano il rischio di sviluppare Alzheimer. Mentre frutta e verdura, grazie al contenuto di vitamina C, polifenoli e flavonoidi, sono altemente protettive. Tra l'altro si parla di consumo cronico di frutta, che è proprio quello che aiuta. Questi sono i frutti di bosco migliori, più ricchi in assoluto di polifenoli. Gli anziani, gli anziani inossidabili erano quelli che avevano spostato la loro alimentazione a base vegetale. Qui li riconosciamo, sono degli anziani di tutta autorevolezza. Attenzione anche ai metalli pesanti. I metalli pesanti, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale, vanno proprio a localizzarsi a livello del sistema nervoso centrale e determinano grossi danni. Abbiamo il mercurio, cadmio, il piombo, l'arsenico e anche l'alluminio. Questo meriterebbe forse un approfondimento a parte, questo argomento molto interessante. Sì, attenzione all'alluminio che si trova in tanti utensili anche di comune utilizzo in cucina, per cui dalla pellicola alle vaschette, ai mescoli, ai contenitori, ai deodoranti, tanti integratori, tanti farmaci e anche banalmente le lattine, lattine di bibite zuccherate e via dicendo. I grandi cervelloni della storia erano tutti vegetariani e vegani. Eccoli qui. Ricordiamoci che è importante anche l'attività sportiva, perché abbiamo una mente sana solo se risiede in un corpo sano. Quindi il famoso detto degli antichi. È verissimo. Tra l'altro questi sono monaci Shaolin, tutti vegani per scelta. Guardate che fisico e che evoluzioni riescono a fare pur avendo un'alimentazione a base vegetale. Ancora, spostarsi sui cibi vegetali aiuta tantissimo e migliora anche il tono dell'umore, che non è poco. Anche qui, mangia la frutta e ti torna il sorriso. Ecco, visto che parliamo di sorriso e di cose gradevoli, qualche ricetta. Come vi dicevo, io sono golosa e mi piace soprattutto il cioccolato, ma l'abbiamo visto, il cioccolato fa bene al cervello, per cui posso tranquillamente consumarlo senza sforare i 30 grammi al giorno. Si può addirittura fare un tiramisù buonissimo, spettacolare. Lui in particolare si chiama Cremotto Brisé e la ricetta è qui, nel mio libro Scelta vegetariana e vita in bicicletta. Eccolo. Ma anche e soprattutto la mia torta preferita in assoluto, ormai lo sanno tutti, che è una cheesecake al triplo cioccolato, vegana al 100%, ad alto contenuto di cioccolato. Buona per tutto, per il gusto e anche per l'umore, decisamente. E si trova a pagina 139 del mio Buono Sano Vegano. E concludo ricordandovi che, con questa slide, cacca grande è correlata con ospedali piccoli. Cacca piccola con ospedali grandi. È provocatorio come tema, come titolo, però in realtà è proprio così, perché chi mangia tanti cibi vegetali introduce tante fibre e quindi produce feci voluminose, che riesce ad eliminare giornalmente e tiene pulito l'intestino. Se si tiene pulito l'intestino, ci si ammala meno, perché meno scorie rimangono all'interno dell'organismo e quindi saranno necessari ospedali più piccoli. Se invece le feci sono piccole, compatte, dure, caprine, vuol dire che abbiamo assunto poche fibre e quindi pochi cibi vegetali e quindi va da sé tanti cibi di origine animale. A quel punto ci si ammala di più e gli ospedali è necessario che siano più grandi. Ultima ricettina, padding cacca grande. È buonissimo, malgrado il nome. È gustoso, lassativo e anche crudo. Come lo si prepara? Semi di chia, del cacao, senza latte, senza ingredienti di origine animale. Qui ci sono le proporzioni, le dosi. Quindi viene un dessert molto gradevole, al cucchiaio, solidino, molto molto buono. Ultima frase, può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. È vero, bisogna proprio prendere in mano la situazione. Come dicevo all'inizio, abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere, di mangiare bene per tutelare al meglio la nostra salute. Grazie dottoressa, la ringraziamo moltissimo per averci spiegato e introdotto in questo argomento così importante che riguarda tutti noi. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.